La difficoltà non è di oggi, non è dal 2010 quando si è insediato il Presidente della Giunta o si è insediato l'Asp. La difficoltà soprattutto economica delle aziende, noi parliamo dei privati, è dal 2010 e dal 2008 ante. Per quanto riguarda da quando ci siamo noi in azienda, io parlo di Reggio Calabria, le aziende, le case di cura hanno avuto liquidato tutto fino al 2012 per quelle che sono le nostre competenze, così le farmacie, tutte le strutture che giustamente vivono con i budget regionali. La dottoressa Squillaciotti alla quale dico con chiarezza estrema che ieri ha detto delle assolute inesattezze, cosa ha detto? No, noi abbiamo pagato tutto, assolutamente falso, falso dalla prima all'ultima parola. Io ho qui i conti dell'istituto, ci devono pagare dal 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Se in una famiglia voi non pagate gli stipendi per tutti questi anni, la famiglia può andare avanti. Sapete a che punto siamo arrivati? Che le ditte, le società che ci devono fornire gli agenti, perché non li facciamo con l'acqua le analisi, ci dicono di dove siete, di Reggio Calabria, no niente. Voi là siete città mafiosa, città chiusa senza nessuna regola, quindi non vi mandiamo niente, o ce li pagate in contrassegno o non se ne parla. Questi sono i risultati della nostra politica, avete capito qual è il problema? Quando io dico che non si può continuare a fare una battaglia assurda contro la sanità privata, perché è una battaglia che non sta né in cielo né in terra, lo dico con questi dati di fatto. Qui è anomala questa nostra riunione, qui ci dovrebbe essere la gente, perché se domani noi chiudiamo probabilmente noi non saremo più imprenditori della sanità e poi non è vero che chiudiamo. No, noi riduciamo il personale, perché con i budget che ci sono possiamo dire, beh quanti siamo? 100, ne facciamo 20. E gli altri 80? E chi li sceglie questi 80? E non sono un patrimonio? Questa non è gente che lavora da 30-35 anni in queste strutture e non serve a salvare la gente? Ci sono delle strutture che già hanno chiuso settori importanti, tipo il punto nascite, come il Policlinico, Madonna delle Consolazioni, che proprio in questi giorni è in fermento con iniziative anche eclatanti. E' notizia di oggi che sarebbe sconciurata la Cassa Integrazione, ma quali sono le prospettive? Le assicurazioni prospettate aprono uno spiraglio per questo futuro? Ma non aprono niente, perché le promesse fatte ieri dall'incontro che c'è stato fra il Presidente e la nostra azienda, e niente, in pratica gli hanno promesso, insomma, gli daranno certamente il budget che aspettava già del 2007. Quindi quella è una cosa che già tocca, non è nessuna novità, ci mancherebbe altro, dico. E così i datori di lavoro cercheranno di sopperire a quelle che sono state le mancate retribuzioni dei lavoratori. E poi le solite promesse. Abbiamo degli articoli su un giornale, non so che cosa, dove il Presidente ha fatto un anno fa la stessa promessa. Il signore di Prima, non so, è l'amministratore di Villa Aurora. La stessa cosa, non si può decurtare di un milione e mezzo un budget dato ad un'azienda su servizi che è già erogato il 14 dicembre. Noi in pratica abbiamo lavorato tutto il mese di dicembre senza... La clinica non ha ricevuto nessuna... insomma, soldi non ha ricevuti. E questo si ripercuote, ripeto, io parlo da dipendente, da infermiere, parliamo di infermieri che guadagniamo 1.400 euro, con turni di notti, di tutto quanto massacranti, perché lavorare con qualità, con una certa prospettiva, incentivati dallo stipendio, si sa che la crisi è mondiale, generale, non è solo sul nostro settore. Però lavorare in queste condizioni non si può più. Si erano avviate già le trattative per andare in cassa integrazione, perché noi ci ritroviamo a lavorare. Abbiamo 80 posti letto rispetto a 219 posti letto, quindi siamo una marea di persone in esubero. In esubero, che l'azienda non sa più dove allocarci. E non ci danno, ci hanno tagliato questa caspita di ostetricia e metanità. E ripeto, personalmente, perché io ho avuto una sorella che ha partorito con i topi ai piedi, in ospedale, nell'azienda.